Insalata di farro, mele e ceci L'insalata di farro, mele e ceci è una ricetta semplice e veloce, che si prepara facilmente in pochi minuti e che può essere servita sia come antipasto che come piatto unico leggero. La combinazione dei sapori, con l'aggiunta di un mix di erbe aromatiche, rende questo piatto unico e di grande effetto. Gli ingredienti di base sono farro, mele e ceci, tutti ingredienti abbondanti durante il periodo invernale. Il farro, ricco di fibre, è un alimento facilmente digeribile ed è l'ingrediente principale di questa insalata. Le mele, dolci e croccanti, donano al piatto un tocco di acidità e di freschezza, mentre i ceci, ricchi di proteine, conferiscono al piatto una nota di sapore più decisa. Per preparare questa insalata, inizia versando il farro secco in una casseruola insieme a dell'acqua. Porta a ebollizione e quando l'acqua inizia a bollire, abbassa la fiamma e lascia cuocere il farro per circa 20 minuti. Nel frattempo, lava e taglia la mela a pezzetti, sbucciala e tienila da parte. Scola il farro e mettilo in una ciotola, aggiungi la mela tagliata e i cei. Mescola il tutto con un cucchiaio di legno e condisci con un mix di erbe aromatiche e olio extravergine di oliva. Aggiusta di sale e mescola ancora. Servi l'insalata di farro, mele e ceci tiepida o fredda, come antipasto o come piatto unico leggero. Puoi accompagnarla con una feta di formaggio o con una spolverata di noci tritate. Ingredienti Farro, mele, cei Erbe aromatiche, basilico, prezzemolo, timo, rosmarino Condimento, olio extravergine di oliva e sale Metti il farro secco in una casseruola e aggiungi acqua fredda fino a coprirlo. Porta a ebollizione e abbassa la fiamma. Cuoci per circa 20 minuti.